Niente pareti o finestre. A lezione si andrà fra pini, siepi e stagni. Il Consiglio Comunale di Pesaro ha infatti approvato ieri all'unanimità la realizzazione dell'Aula Natura WWF che interesserà l'Istituto Comprensivo Livieri e in particolare la Scuola Brancati. L'approvazione è il risultato di una mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico Anna Maria Mattioli e Giampiero Bellucci e recepisce l'attenzione di WWF Italia per la realizzazione di strutture didattiche all'aperto volte a conciliare natura e esigenze di distanziamento sociale e di salubrità dell'aria. WWF è reputato meritevole d'attenzione un'area particolarmente colpita dai contagi come il Pesarese e un istituto pluripremiato a livello di ecosostenibilità come la Scuola Brancati. È passato in consiglio di istituto all'unanimità proprio perché dopo due anni di pandemia chiaramente tutto il corpo docente ha ritenuto la proposta molto valida perché va a portare dell'innovazione dal punto di vista dell'ecologia, della sostenibilità e dell'educazione. Quella che sorgerà nel quartiere Pantano sarà la prima aula natura delle Marche, già individuata l'area di collocazione di un progetto che WWF realizzerà a titolo gratuito. Individuare un'area di circa 80 metri quadrati all'interno del parco Palatucci che si trova nella zona di Via La Marmora e questa zona che è già ben recintata non avrà necessità di grandi modifiche, solo un punto acqua perché verrà realizzata completamente appunto dal WWF Italia. Il valore di quest'aula è di 15.000 euro completamente a titolo gratuito che viene donato. Verrà realizzato appunto, dicevo, uno stagno al centro di quest'aula, un piccolo stagno con degli habitat per lo studio di microorganismi. Poi ci saranno dei bike hub, un'area per l'osservazione della vita delle farfalle. Verrà realizzato anche una siepe, diciamo, di separazione, dei tavoli didattici e anche delle tavole, diciamo, di orientamento. Grazie. Grazie. Grazie.